Salve a tutti e benvenuti ad Attuto Reality Ponyville! Oggi siamo qui per fare la primissima sfida ufficiale. Questa sfida sarà una gara di tuffi, però non nell'acqua. Tutti i pony, tutti i concorrenti delle due squadre, degli unicorni e dei pony terrestri, dovranno buttarsi da una montagna e dovranno atterrare su una comodissima sedia poltrona. Quindi dovranno centrarla perché è abbastanza piccola e se non la centreranno si faranno male e saranno anche a rischio di eliminazione. Quindi adesso le andiamo a chiamare e inizia la sfida. Chi le va a chiamare? Io! Grazie! Eccoci qui con le due squadre. Ho spiegato le regole. Allora, in poche parole dovranno tuffarsi da dove andremo noi, una specie di precipizio. Ovviamente dovranno atterrare sul nostro bersaglio che è una poltrona super comoda e quindi non vi farete male. Se attererete oltre quel bersaglio, beh, vi potete far male giusto un pochino, ma tranquilli che non dovrebbe essere troppo doloroso. Quindi per vostra fortuna non dovreste farvi troppo male. Già, anche perché noi vi indirizzeremo, sarete voi gli stupidi a non cadere sulla poltrona. Quindi, cioè, idioti! Se non ci cadete, mentre chi si cade è super intelligente. Comunque, tranquilli, se cadete un po' più in là, abbiamo dovuto mettere un pavimento un po' più morbido per non andarvi all'ospedale. A me non sarebbe stato indifferente vedervi tutti i sanguinanti all'ospedale, però i produttori hanno detto Pinchisi buona, se non è Babbo Natale. Io voglio sia Babbo Natale che la befano, ok? Ridiriggiamoci al precipizio! Eccoci qui al precipizio. Questa casetta che vedete dietro non è assolutamente utilizzata come sfondo perché magari dietro ci sono altre attrezzature. Che servono per le videocamere e tutto il resto. Ma dentro ci sono dei cameraman che fanno le riprese per quando si tuffano. Quindi, mica siamo così poverazzi. Comunque, adesso io li chiamo uno per uno ed iniziamo con la squadra degli unicorni. Inizia il nostro capitano, ovvero il loro capitano, ovvero il capitano della squadra degli unicorni, Rarity. Oh, scusami Pinchisi, sono davvero emozionata anche perché ho paura di rompermi qualche zoccolo, poi come faccio a cucire, quindi iniziamo subito. Non voglio guardare. Rarity, stai tranquilla. Al massimo ti puoi rompere il corno. Ok, ok, ok. Allora, Rarity, ce la puoi fare? Sì, Rarity, però puoi fare veloce. Posso almeno fare una pechiera di morte? Non morirai. Ok. Ah! Ce l'ho fatta per la mia squadra, è tutto di più. Non mi faccio a stare qui così velocemente. C'è l'ascensore, ovviamente. Ok, ci rivediamo su. Adesso ci vorrà qualche minuto, ma voi lo vedete in questo preciso istante. Ok. La prossima che chiamo, ecco, è la nostra principessa Tala Sparkle. Ciao Pinchie, sono pronta. Ah, non si possono usare le ali. Ok, mi butto e basta. Perfetto, grazie Tala Sparkle di non darmi mai problemi. Ecco perché sei la mia mia amica, è la mia preferita. Buuuu. Oh. Oh. Tala, dai. C'eri quasi. Eh, lo so. Ho sbagliato. Le prossime tre sono DJ PON3, Laira e Sansa e Shimmer. Sì, vai inizio di DJ PON3, ci vediamo giù ragazze. Ah! Oh. Laira, puoi scendere? È svenuta. Oh, mio Dio. Buttatele un secchio d'acqua in faccia, no? Sansa, è talora scendi tu. Ah! Oh. Dai. Oh. Oh. Oh, gira la testa. Sì, lo so. Puoi vomitare da un'altra parte, no? Perché non è che abbiamo tutto questo tempo. Grazie. Laira si è svegliata? Oh, ok. Adesso Laira. Ah! Oh. 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 Vi dico, da qui chi si butterà? Si butteranno gli ultimi 4, ovvero Pretzel, Trixie, Sunlight Glimmer e il nostro Sparkle. Oh. Oh. A Pretzel, stai bene? Oh, sì. Sto avrò la guancia gonfia per un po' di tempo. Oh. Oh. Ce l'ho fatta. Perdente. Allora Applejack mi ha detto che tu non sarai la prima a buttarti. perché vuole provare questa adrenalina a button bell per prima. Sì, ho detto proprio così. Ehi, sono la prima allora. Vai button bell. Perché fai il tifo per lei? È per tutta la squadra. Oh. Dolce. La testa. Parse i pink. Ma hai bisogno degli occhiali? No. Ho le lenti a contatto. Wow, Rainbow Dash. Sei stata grandiosa. Adesso ho tutto trucco di grande abilità. Ideali. Cosa? Non l'ho detto che ti voglio bene. È stato divertente. Grazie, Pinkie. Di queste grandi avventure acquistori alti. Oh. Io speravo morisse tutti quanti. Però. Prego. Wihi. Oh. 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 Tutto bene. Sì, sta bene. Cirly, tocca a te. Assolutamente no. Io non mi tuffo. Potrei dare degli insegnamenti sbagliati ai miei puliderini. Quando sono a scuola poi si vorranno tutti buttare da un precipizio. Non posso assolutamente. Lily vai tu. Ma così perderemo. Mi dispiace Lily. Ma è una mia scelta. Ok. Però se poi ti eliminano... Oh. Giusto. No, se sbagli anche tu. No. Ah. Lily hai perso. Perché mi ha spinta giù. Oh. Ma. Mi dispiace. Ormai il tuo turno è saltato. Oh no. Ragazze, Cirly mi ha spinta giù. Perché lei ha paura che verrà eliminata. E quindi per farmi sbagliare mi ha spinta. Davvero. Ma invece... Dimbo, lei ci aveva detto che dovevamo usare il trucco delle ali. Lo so, ma lei mi ha spinta. Deve essere eliminata. Ovviamente noi abbiamo un'alleanza. Ma credo che le elimineranno tutti quanti. Dato che... Ovviamente non si è voluta tuffare. E abbiamo perso. Grazie a te. No, avremmo perso comunque. Parità. E visto che Cirly non ha nemmeno provato... Dato che Cirly non si è voluta assolutamente tuffare nemmeno provandoci, gli unicorni vincono la prima sfida di a tutte le ali che pari vi. Wihi. Ok, adesso andremo alla cerimonia dell'eliminazione di uno dei componenti della squadra dei terrestri. Con grande dispiacere. Anche se... Non sono una zecora, ma predico già di essere eliminato. E' la primissima cerimonia di iniziazione. E adesso vi spiego cosa succederà. Visto che gli unicorni hanno sbagliato quattro volte, mentre voi l'avete sbagliato e cinque, con un tentativo nemmeno utilizzato. Uno di voi oggi andrà a casa. Chiamerò i vostri nomi e pian piano verrete qui a prendermi al Gemma. Chi rimarrà senza Gemma tornerà a casa. Tornerà a casa. Tornerà a casa. Io l'ho fatto per una giusta causa. Ma non credo di essere eliminata, visto che l'ho fatto per i nostri futuri figli e per i nostri poledrini, fratellini e... Rimbolash come Scutalo. Giusto. Già. Bene, allora il primo nome che chiamo è della Capitana Applejack. Sì. Complimenti. Poi anche Buttonbell che è stata meravigliosa. Poi, vabbè, ve li lancio io. Allora, Fluttershy è anche stata abbastanza brava. Poi... Anche... Oh, Rimbolash. Non c'è scoperto. Ehi. Rimbolash. Adesso siamo rimasti con i perdenti. Quelli che hanno fatto perdere la vostra squadra. Doviste eliminarli proprio così. Tutto. Però si salva Honey Rays. Ah, lei è. Jake. Sì. Poi, si rimasta solo poi tre. Parse si salva. Sì. E rimangono in gara solo due Pony. Lily Blossom e Cirli. Che prenderà l'ultimo diamantino. E quest'ultimo diamantino lo prende. Lily Blossom. Oh, diavoletti. Vabbè. Non importa. Meglio così. Così i miei piccoli puledrini. Basta con questi puledrini. I puledrini fanno cose più spericolate di queste. Ah. Che maestro sei? Maestra del 1800. Oh. Ah. Devi ritornare a casa adesso. Mi dispiace. Non importa. È stato un reality meraviglioso. Ti sei seduta sulla mia sedia? Ma questo ti farà tornare a casa. A piedi. Pinky, mi dispiace. No, no. È il mio trono. Non il tuo. Cirli, sono il capitano. E devo dire il nome di tutta la squadra. Che ci dispiace. A nome. Sì, a nome. Non ti preoccupare, Bojack. Vincerete di sicuro voi. Grazie. Anche perché questa è una squadra così sincera. Piena di amicizie. Non ci sono nemmeno le alleanze. Già. Già. Ok, allora io torno a casa. Visto che devo tornare a piedi. Pinky non ti farà tornare a piedi. Che cosa? Da quando dici di tu? Da adesso. Dai. Ok. Vieni. Ti porto alla tua macchina. O meglio, carrozza. Ciao ragazzi. Mi mancherete. Ciao, Cirli. Ciao. Buona fortuna a tutti. Spero davvero vincete voi. Mi dispiace così tanto. Non avervi saputo guidare. No, Applejack. Tranquilla, sei stata un attimo capitano. Grazie. Io torno a dormire. Domani ci aspetta un'altra gara super... Travolgente. Già. Io torno. Io vado a dormire. Per un attimo credevo che... Che stavo presto eliminata. Hai visto cosa hai rischiato? Già. Non fare mai più quello che hai fatto. O se no, ti voteremo anche noi. Scusatemi ragazzi. Sapete, mi ha spinto Cirli. Io ti credo. Anche io. Io... Vado anch'io. Ok. Davvero le credi? No. Io sì. Certo che le credo. Ma una come noi avrebbe saputo utilizzare le ali anche mentre cadeva. Questo significa che non ha l'altizia. Dovremmo metterla a dura prova. No. Rimboda, ci siamo una squadra. Già ci siamo eliminate dalla nostra squadra e siamo rimasti in trio. E rimanete solo tu. No. E allora cerca di capire che è stata colpa di Cirli. Ok. Hai ragione. Non toccate il mio trono. Ok. Allora andiamo. Rari ti complimenti. Già grazie a te, il nostro capitano, siamo riusciti a vincere la prima sfida. E vinceremo anche la seconda. Io non voglio perdere nessuno di voi. Mi hanno dato una responsabilità grandissima e assolutamente non voglio che nessuno di voi venga eliminato. Siete tutti i miei amici. Ti vogliamo bene, Rari. Anche io ve ne voglio. Mi raccomando, andiamo a riposare che domani ci aspetta un'altra sfida vittoriosa per gli unicorni. Sì. Sì. Secondo voi, chi vincerà? Quindi? Secondo voi, chi vincerà questo reality? Chi vincerà la prossima sfida? E chi l'ha eliminato? Sono davvero curiosa. Mi sta prendendo una voglia esagerata di andare a vedere i spoiler. Peccato che non ci sono. Ma, ok. Lo potremo scoprire voi ed io soltanto nel prossimo episodio di A Tutto Reality Ponyville. Ok, dopo questa volta, credo che la prossima volta avrò un forte mal di gola. E non avrò più la voce per parlare. Molti saranno felici, ma io ritornerò con una voce stupenda. Vado a prendermi una cioccolata a casa. Da questa voce ho bisogno. Cioè, il mio talento meraviglioso deve essere alimentato. Già. 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 Già.